Sì, è stato di recente giudicato uno dei dieci uomini più influenti al mondo sulla tematica delle tecnologie per la didattica e del padre, insieme al collega Matthew Keller, del famosissimo TPCK model. In pratica, il TPCK model sottolinea l'importanza di una formazione non esclusivamente tecnica del corpo docente. Siamo molto curiosi di vedere che cosa il dottor Mishra ci racconterà e siamo molto onorati di averlo qui con noi. La tecnologia ha cambiato tutte le cose che abbiamo fatto nel 21st century. E' un'esperienza che non deve cambiare la teaching, credo che è un errore. Ora, given che la tecnologia è un'importante role in tutto ciò che noi facciamo, credo che abbiamo bisogno di trainare i professori in order a intelligente integrare la tecnologia in loro. E' un'esperienza che si può apprendere un certo senso e poi capire come in quanto riguarda l'imprimente in la scuola, ma sono state, bisogna fare l'imprimente in quanto riguarda la loro storia. Niche di dimensione, apprezzare, come un'esperienza del fatto di capire come possiamo spiegare l'imprimente nel corretto di un lavoro. Quindi ci sonoρanti in la loro storia che ci vogliamo che ci può aiutare l'imprimente nell'imprimente l'imprimente, che ciò che dobbiamo permettere di integrare l'imprimente questa tecnologica in loro. E' un'esperienza che lo votano sul prossimo. Anche di prestazione i amparazzini è un'esperienza complicate di un'esperienza. It requires understanding where students come from, it requires understanding subject matter and increasingly it requires understanding the role that technology plays in influencing both what students know as well as how we can teach it. So technology by itself, the knowledge of technology by itself is not enough, but not having it is not right either. So it's really a question of how do we find that balance between knowledge of subject matter, which is incredibly important. If you're a teacher of mathematics, you need to know mathematics. But we know lots of people who might be good teachers, who might be good mathematicians, but don't necessarily know how to teach it. So clearly teaching requires going beyond knowledge of subject matter. However, with the advent of new technologies, the way we represent mathematics or music or political science or social studies changes. So I think that we cannot see technology just by itself, but we have to see it in integration with the other aspects of what make up teaching as a profession. If you look at most models of teacher professional development, especially around technology, it has been where teachers have been given a course on a certain technical tool, whether it may be making a blog or a wiki or using probes for science without necessarily thinking of how it impacts their actual practice, what they actually do in the classroom. So I think the single biggest thing that the TPAC framework offers or people call it the TPCK framework offers is suggest that we cannot see technology or pedagogy of content in isolation from each other. So which means that if we have to train teachers, if we have to do teacher professional development, we have to provide them rich contextual opportunities where these three pieces are already integrated together, not seen as being separate pieces.